Buongiorno a tutti e bentornati qui su Nevrosis, il pianeta di tutti quelli che avevano molte cose da dire ma che non hanno capito niente su come spiegarle. Nella scorsa puntata abbiamo visto come la letteratura kafkiana metta bene in evidenza il conflitto tra funzionalismo collettivo e personalità individuale, arrivando a descrivere metaforicamente gli effetti di questo conflitto sulla psiche del singolo. Ora, mantenendo il collegamento con la letteratura, possiamo notare che questo stesso tema si è affermato nel corso del tempo come uno degli aspetti più rilevanti del genere fantascientifico. Infatti, con la fantascienza si manifesta quella grande abilità letteraria di molti autori che ci presentano degli scenari futuri in cui prende vita un intreccio tra interessi politici, tematiche sociali, questioni etiche, morali e religiose, che finiscono per contrapporsi all'interesse del singolo individuo a manifestare la sua personalità, vista come un problema rispetto all'efficienza dei sistemi di produzione. Esaminando questi aspetti ci rendiamo conto quindi che la fantascienza è il genere che più di ogni altro si presta alla possibilità di dare vita ad una critica della società, dato che lo scrittore utilizza elementi metaforici per descrivere i limiti fisiologici e strutturali delle organizzazioni collettive del suo tempo. In questo modo, puntando i riflettori su questi aspetti critici, amplificandoli e creando connessioni con i regimi totalitari affermatisi nel corso della storia, l'autore arriva a delineare un contesto sociale ipotetico che, per quanto assurdo, mantiene un fondamento credibile, e la descrizione letteraria di questo contesto sociale estremizzato che assorbe tutti gli aspetti negativi della società prende il nome di distopia. Guardando all'etimologia della parola ci rendiamo conto che la distopia, che letteralmente significa un cattivo luogo, si fonda appunto su un aspetto spaziale e non temporale. Questo ci dice che con la creazione di scenari distopici l'autore riesce a trasferire la sua riflessione da un luogo a un altro, cioè da quella realtà a cui gli individui finiscono per essere assuefatti e desensibilizzati, ad una finzione che si mostra capace di riaccendere la riflessione su tematiche attuali affrontate però su un piano diverso. In sostanza, l'opera distopica, grazie a questa trasposizione spaziale, dà la possibilità al lettore di prendere distacco e di osservare la società in cui vive con occhi nuovi. Inoltre, un ulteriore aspetto fondamentale è che la distopia, intesa come altro luogo anziché come tempo futuro, spezza la visione utopistica secondo cui nel suo progredire l'uomo si dirige verso un continuo miglioramento e ci riporta tra virgolette con i piedi per terra, avvicinandoci alla consapevolezza che la storia dell'uomo si ripete in maniera ciclica. E ogni sistema collettivo, anche se inizialmente fondato su ideali di giustizia e libertà, finisce per sviluppare la propensione ad autopreservarsi a discapito di quegli stessi ideali su cui si fondava la sua originaria costituzione. A questo proposito possiamo guardare al romanzo di George Orwell, 1984, e a tutte quelle opere letterarie o cinematografiche ispirate allo scenario distopico proposto da questo autore per individuare i tre elementi fondamentali su cui si fondano i sistemi funzionalisti. Innanzitutto abbiamo il controllo, finalizzato appunto a predisporle il sistema della censura, a prevenire il dissenso e a reprimere ogni istinto di libertà. In secondo luogo abbiamo la limitazione dell'amore e della sessualità, che porta l'uomo a sentirsi un automa, privato delle più intense esperienze della sua vita, ormai convinto che non ci sia nulla per cui valga la pena lottare. E infine il terzo elemento, ovvero la capacità del classico regime totalitario orwelliano di creare uno stretto collegamento tra l'ideologia politica e una forma di credo religioso. In questo modo, per il singolo individuo risulta pressoché impossibile mettere in discussione un simile sistema. Questi tre elementi, tipici della distopia orwelliana, lasciano emergere ancora una volta il fatto che i sistemi collettivi, in vista di una sempre maggiore efficienza dei loro apparati, arrivano a trasformare le persone in veri e propri ingranaggi e l'individuo, una volta sottomesso alla volontà collettiva, smette di farsi domande su quale sia lo scopo ultimo dell'apparato sociale. Se lo facesse, infatti, l'individuo scoprirebbe che la sua vita è al servizio di un sistema funzionale che ha come solo ed unico scopo quello di funzionare e la sua esistenza si mostrerebbe votata ad un ideale collettivo che altro non è se non un paradosso. Per quanto riguarda il cinema, il film che più di ogni altro ci aiuta a comprendere il senso di questo funzionalismo è ovviamente Matrix. Ma di questo parleremo nella prossima puntata.